Scontro con punti pesantissimi in palio tra Avezzano e Notaresco, con l'anticipo causa bomba che vede il Dei Marsi aperto già da sabato. Mister Scorsini vuole allungare rispetto alla zona play-out, mentre Bruno ha bisogno di dare la scossa per tentare almeno di staccare la zona retrocessione diretta. Pubblico avezzanese presente e curva di nuovo a supporto in modo importante dei biancoverdi, che praticamente subito passano in vantaggio con il giovane De Almeida, abilissimo a capitalizzare un'occasione costruita tutta sulla fascia sinistra da Pellecchia, sfera al centro dell'area di rigore e piattone del classe 2003, che supera imparabilmente Shiba. Grande esultanza sia in campo che in curva per l'Avezzano, che poco dopo reclama per un atterramento in aria ai danni di Paris. Per il signor Caggiari di Cagliari però è tutto regolare. Il notaresco inizia a farsi vedere pericolosamente dalle parti di Coco, salvato da una deviazione di Bittaglie dopo la conclusione sporca di Cardinali, e poco dopo il numero uno dell'Avezzano si oppone da campione per due volte a scimia, prima su un colpo di testa dal centro dell'area di rigore, quindi su una bella conclusione da distanza davvero ravvicinata. Nella ripresa l'Avezzano va a un passo dal chiudere la disputa sugli sviluppi di un'azione nata dalla fascia destra. Pellecchia conclude al volo, ma Shiba è reattivo e salva il notaresco, che a sua volta prova poi a chiudere i marzicani nella propria metà campo. L'unica occasione vera è però un tiro da fuori di Cuchi, parato in modo plastico da Coco, quindi a tempo praticamente scatuto Dos Santos mette in moto il nuovo arrivato Provenzano, che è abile a saltare Shiba ed a mettere l'ombrellino nel long drink per l'Avezzano. Il 2-0 chiude i conti e regala tanta serenità ai marzicani, mentre per il notaresco la classifica si fa sempre più spaventosa.